Ciao a tutti, siamo qua oggi in questo piccolo torrente nella provincia di Varese per provare a prendere qualche bella trota, essendo che negli scorsi giorni sono state immesse in occasione dell'apertura e nulla, vediamo un po' come è. Grazie a tutti. Eccola! Eccola ragazzi, bellissima, trotafario, attacco arrivato qua sotto i piedi, anche di una taglia discreta. Eccola ragazzi, una bellissima fario, anche di una bella taglia. E ora la lasciamo andare. Eccola ragazzi. 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 Eccola Eccola ragazzi Un'altra Subito Eccola Mangiamoci le mani Sempre E si slama da sola Peschiamo Con amo senza ardiglione Bellissima E va via ragazzi Eccola Ce l'ho Ah Islamata ragazzi Frizione troppo aperta Eccola Ce l'ho subito Bella questa Altra fario Si slama Sempre subito Eccola ragazzi Un'altra Bella fario Allora Lasciamo andare Movia Ah Islamata Eccola ragazzi Si è mossa Lì sotto riva Eccola Anche questa Bella Forse la più bella Finora E la portiamo a Guadino Amo rigorosamente Senza ardiglione Senza ardiglione Per non fare male Al pesce Ci bagniamo Le mani Eccola ragazzi Altra bellissima fario Forse la più grande Di oggi E va via E va via Eccola Eccola Persa ragazzi Per non fare L'allarme Eccola Eccola Che Je Che 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 Eccola 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 Bellissima trovata Iridea Bella Eccola ragazzi Eccola Sì, vanno Sì, vanno Sì, vanno Grazie a tutti.